3 Porco Pfff Musica 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 Beh ragazzi i quadricote oggi siamo qua Con un nuovo episodio di Skywars Siamo qui in compagnia di Vertigo Non è vero io in realtà non lo sono E siamo qui nell'iglesias trovate naturalmente L'ip in descrizione è un server che sicuramente Conoscete il fatto che siccome Molti di voi mi stanno chiedendo di fare video su questi server Allora io Vertigo Siccome adesso Siccome è mattina abbiamo detto E vai facciamo uno Skywars E vediamo come va ragazzi fateci sapere nei commenti Se volete comunque vedere Skywars O comunque se volete che io faccio Skywars Quindi siccome adesso ci dobbiamo trovare in partita Stop quel video ci vediamo nella partita Ok ragazzi Rieccoci qua siamo qui in pratica incastrati Siamo incastrati dentro delle cose di Vetro è inutile neanche che Stai zitto Stai zitto Oddio Perfetto Allora non c'è neanche bisogno che vi dico le regole di Skywars Tanto le sapete Vertigo è naturalmente un nabo di merda Sta registrando anche lui Io non so nulla Come devo cosa Prendi le ceste Fai cadere giù gli altri Fai pvp Fai pvpa Ah quindi in poche parole muoio Sì Mi ero scordato di dirtelo Adoro questo gioco Mi sto già divertendo Guarda A prendere le casse Ok intanto Perfetto C'ho tanta roba Di merda Eh guarda se tiro le uova fai i suoni Ok basta Ok Allora Io siccome Ti gioco davvero poco Vi faccio vedere Una tecnica che si chiama In questa mappa Una tecnica che si chiama Muori subito Non è la pietra in questa mappa Che pietra La pietra quella Per prendere Ma scusa E perché vuoi prendere la pietra Perché poi c'è il ferro Così faccio il piccone in pietra Ah no Ce l'ho già la pietra in l'inventario Ah ok Ma Io ragazzi non ho parole Sono serio Suino Sei morto? No No Te lo dico io Non sono morto Questo qua si crede che io sono morto Ma porco Perfetto Sei morto Lui dice le menzogne Oddio cosa fa con lui lì sopra Come perché Eh vedi che funziona così Sky Wars Io no Ma noi siamo già in aria Perché devi salire ancora di più Eh perché Ti spiego Tu devi sapere Che Ok adesso arriva una spiegazione senza senso Il capo di questi villager Mi ha detto a me Guarda Io Sono io Ti do una zucca E te fai un travertigo qua nel server Ci sono le zucche va benissimo Infatti io ricevo una zucca sulla mia isola E mi fa molto piacere questa cosa Eh esatto Ma è stato fatto soltanto per attirare te Cioè non ti credere che Eh no infatti Esatto Eh molto privilegio Capito Ok ma Tu sei ancora vivo Io sono ancora nella mia isola Non farò un cazzo Guarda lì Stai attento lì C'è un tizio là Guarda cerco di prenderlo Anche se Non credo che lo prendo Oh guarda c'è un tizio lì sopra C'è un tizio lì Dai Dai che lo piglio Dai che lo Porca troia L'ho mancato L'ho preso Oh Fallo cadere Porca troia Eh 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 Cacchio Eh Addio Dai cazzo Ti vado subito a vendicare Siamo rimasti in due player Vai così Non vale Cioè io Ero persona innocente Mi sa buttare addosso Pensavo che sarebbe morto Come ti sei buttato addosso? Mi si è buttato addosso Non ho preso la mia ricaduta Oh no l'ha preso No 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 Non si prende qua il danno da caduta Cosa? Non si prende Oh no Oddio Beh intanto Ti devi continuare a parlare Perché tu devi parlare Eh lo so Però Cosa posso dire? Non posso neanche farti a spettatore Perché non mi hanno Vertigo Ciao ciao La gente mi saluta Perché Evidentemente Mi sono fatto riconoscere Troppo quando ho assaltato Obama Ah perché si può anche saltare Assaltato Non saltare Buduna Oddio Ok Perfetto È morto anche un altro Ragazzi Ragazzi È morto anche un altro Gazzi Ragazzi Bene Gazzi Galeazzi Ho ucciso anche il tizio Che ti ha ucciso a te Ah davvero Grazie per la Perla Grazie per la Perla Beh non sapevo Che ti avevo regalato Una perla Però Adesso mi fai pensare Ma la devi dare indietro Eh appunto A virgola A Punto esclamativo Esatto Ok dai ragazzi Questo è l'ultimo Questo è l'ultimo Comunque sia le partite di Sky Wars Durano davvero poco Quindi magari di solito qualche volta faremo tipo un piccolo montaggio Mi fanno ridere le chat Mi fanno ridere le chat qui perché sei carina Non mi fidanzo su minecraft Ma come sei carina Hai visto solo la skin Cioè posso anche mettermi la skin di Belen Rodriguez Sei fidanzato Ma quando è che minecraft è diventato mythic Per favore Aiuto Aiuto Ok Cioè davvero È terribile Nabbo trollface ha vinto la partita nella mappa Multi biomi Deregote ha vinto la partita nella mappa Sono U Se Deregote ha vinto Se Se Va bene Allora comunque ho visto che sono abbastanza capace in questi server Infatti ho fatto anche altri video con altri miei amici sugli Sky Wars È andato abbastanza bene Comunque sia Se il video vi è piaciuto Il video come al solito Lasciare un bel like A scrivere qua sotto Scrivere qua sotto Se continuare a fare Sky Wars O comunque sia Se vi è piaciuto questo Sky Wars E iscrivervi anche al canale divertico Che troverete in descrizione E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi